Anche tu ami le scollature e le bretelle sottili, ma non puoi fare a meno del contenio che ti dà un push-up? Ho la soluzione per te. Lui è Boots Tape. Che cos'è? È un rotolo di 5 metri di garza. È praticamente un registro in un lungo 5 metri che potete usare quante volte volete, finché non lo finite, buttate e ne comprate un altro perché non potrete più farne a meno. Contiene colla medica, quindi è ipoallergenico e non dà problemi neanche alle pelli più sensibili. Ed è tanto, tanto, tanto elastico, quindi anche le tettone possono usarlo. Ecco, l'effetto è quello del push-up. È bellissimo. E ora? Le mie bretelle sottili sono finalmente a posto e non sono rovinate da nessun tipo di registro. L'effetto push-up c'è sempre, perché direi che è provoso. Codice sconto SM5 Per le cose che stanno facendo mai. ...